Un progetto che ha visto come capofila gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico Caporale ha dimostrato come è possibile ripopolare i nostri fondali marini di lumachina e i cosiddetti bomboletti in servizio. Reintrodurre la lumachina di mare Nassarius mutabilis, il nostro amato bomboletto, nella costa Chietina. Questo è l'obiettivo della ricerca avviata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise presentata nella sala polifunzionale di San Vito Chietino. La ricerca ha sperimentato strutture in grado di favorire la deposizione delle uova da parte delle lumachine facilitando l'attività riproduttiva e di conseguenza il ripopolamento del mollusco. Nel convegno sono stati divulgati i risultati di questa ricerca per una migliore gestione e valorizzazione delle risorse della pesca a pannaggio soprattutto degli operatori della piccola pesca, sono circa 330 sul territorio regionale e anche della ristorazione. La lumachina di mare, in gergo nota come bomboletto, è un piccolo mollusco presente sui fondali fangosi delle coste mediterranee a profondità comprese tra 2 e 15 metri. Da oltre 20 anni rappresenta un prodotto della piccola pesca di estrema rilevanza nell'Adriatico Centro Settentrionale e in Abruzzo in particolare. Ma nonostante l'interesse commerciale, di anno in anno le marinerie ne segnalano una crescente diminuzione. Carla Gianzante, la biologa dell'Istituto Zooprofilattico, osserva che negli ultimi anni abbiamo assistito ad una pesca irrazionale ad un eccesso di pesca per quantità e per durata di tempo, da ottobre ad aprile, che ha fatto diminuire sensibilmente la presenza del mollusco. Per il progetto sono state utilizzate strutture per la deposizione delle uova, i collettori, da 5 pescatori della piccola pesca costiera guidata dagli esperti dello Zooprofilattico e della società cooperativa Blue Marine Service. La collaborazione tra pescatori professionali e ricercatori ha portato buoni risultati estendibili a tutta la costa abruzzese per una valorizzazione anche culinaria dei prodotti della pesca. Il progetto è stato realizzato nelle acque costiere prospicenti il porto di Ortona dall'Associazione di Scopo, costituita per l'occasione, che ha visto come capofila l'Istituto Zooprofilattico Caporale in collaborazione con la cooperativa di pescatori Santa Andrea di Ortona e il supporto del gruppo Azione Costiera dei Trabocchi.